southport sta a un 20 25 chilometri a nord di liverpool i beatles nel 1962 prima di incidere il loro primo disco avevano toccato quella città suonando nel kingsway club otto volte e una volta alla cambridge hall i loro rientri in furgone da quella città si protraevano con la visita a iris keldwell sorella di alan keldwell più noto per il suo soprannome rory storm iris keldwell era stata la fidanzatina di george harrison quando erano poco più che bambini la madre v è sempre stata molto supportiva nei confronti dei figli e di quel primo nucleo dei beatles che non comprendeva ancora ringo che però nel frattempo suonava negli hurricanes del fratello rory storm alan quando george aveva 14 anni e lei 12 george avrebbe voluto suonare con suo fratello ma fu scartato per la sua giovane età cosa che rischiò di fare anche nei beatles le serate post concerto dei beatles finivano spesso a casa di iris e di alan serate in cui la madre vi si prendeva cura di loro offrendo da bere da mangiare fino a tarda notte malgrado le lamentazioni del marito che avrebbe invece voluto dormire iris fu in seguito anche la fidanzata di paul proprio in questo periodo proprio in una di quelle di quei giorni di quelle date in cui i beatles tornavano da southport e facevano tappa in casa loro iris nel 1962 aveva 17 anni in una di quelle brevi trasferte mentre stavano tornando a liverpool paul ha un'intuizione e butta giù due righe she was just 17 she had never been a beauty queen lei aveva solo 17 anni e non sarebbe mai stata una regina di bellezza e deve piacere molto questo verso a paul perché continua a lavorarci anche qualche mese dopo tra un concerto e l'altro e tra una fidanzata e l'altra a novembre infatti del 1962 paul approfittando di tre giorni di pausa fa autostop verso londra per andare a trovare un vecchio amico insieme alla sua fidanzata di allora cilia mortimer allora 17 anni anch'essa si trova a discutere con lei della canzone che ha già tentato di sviluppare e sembra che cilia gli suggerisca anche due righe del testo we held each other tight cilia è convinta che il brano o qualunque cosa ne uscirà parli di lei è come se paul in questa fase mette insieme pezzi che prende da ogni luogo e in ogni momento l'idea di lei che sta in piedi là so her standing there in un luogo non ben precisato ma sicuramente in un luogo dove si balla e ad esempio preso quasi pari pari da una canzone che racconta di un approccio simile i coster nel 1957 avevano raccontato del sangue giovane del young blood e i beatles proprio nel 1962 avevano inserito in scaletta questo brano nelle loro esibizioni un brano in cui compaiono delle voci di risposta ai tentativi di abbordaggio una delle quali dice lascia stare mia figlia nei primi anni del 1960 in inghilterra si otteneva la maggiore età a 21 anni ma era permesso di guidare una macchina dai 16 una ragazza di 17 anni era considerata una minorenne ma per un coetaneo o un ragazzo poco più grande di lei era in fondo l'oggetto del desiderio una donna fatta e finita una vecchia canzone tradizionale 17 come sunday cioè diverrà diverrà 17enne sabato era conosciuta in alcuni luoghi dell'inghilterra e poi fu ripresa da un sacco di gruppi del folk revival come ad esempio i fairport convention questa canzone raccontava le gesta di un militare che seduceva una quasi 17enne perché li avrebbe compiuti appunto sabato con velati riferimenti sessuali e la canzone finiva con l'implorazione della ragazza che avrebbe appunto compiuto di lì a poco i 17 di essere sposata perché il suo cuore era stato conquistato dal militare con lo stesso titolo 17 come sunday kate the group da leeds conosciuto negli anni 60 come jerry temple aveva pubblicato un singolo l'anno precedente nella canzone si diceva all teenage weddings are rare i know and everyone stare as long as we're in love will be together for all eternity cioè certo i matrimoni di adolescenti sono rari io lo so ma tutti quanti ci guarderanno ci ammireranno per tutto il tempo in cui noi saremo innamorati e staremo insieme per l'eternità proprio perché i 17 anni sarebbero arrivati da lì a poco ecco che la ragazza diventava papabile mi sia concesso questo termine quando paul mccarney fa vedere a john il suo testo che ha messo nel frattempo insieme prendendo prestito frasi e situazioni che ha incontrato in canzoni altrui lennon torna sull'incipit e gli dice che ha scritto una stupidità mostruosa ma che è quel verso sulla beauty queen se ci pensate anche in questo frangente paul inserisce l'immagine di una regina seppur di bellezza all'interno di una delle sue prime canzoni quasi come se la regina fosse da sempre un oggetto del desiderio fanciullesco di paul 17 gli dice paul può rimare con tante gli dice john scusate 17 può rimare con tante altre cose e butta giù degli esempi fino ad arrivare a you know what i mean sembra perfetta tu sai cosa intendo e cosa intendi tutto questo è lasciato all'ascoltatore l'ascoltatore inglese che ha un immaginario fatto di assalti alle dicesettenni che vanno dalle canzoni popolari fino alle ultime uscite probabilmente a paul era venuta in mente l'immagine della beauty queen perché avendo la sua canzone una matrice rock and roll aveva anche sondato all'interno della canzone di chuck berry little queenie in cui lui dice when i saw her coming down the aisle cioè quando l'ho vista scendere dall'isola quelle cinque parole di lannon you know what i mean messe in seguito a she was just 17 invece riportano l'immaginario della canzone nel solco di tutte le cose non dette sulle diciassettenni come nella tradizione ripresa poi da jerry temple proprio un anno prima i beatles anni prima avevano suonato ad hamburgo e avevano già registrato un disco come band di supporto a tony sheridan un artista inglese che aveva trovato l'america in germania ad hamburgo i beatles avevano legato molto con lui e poiché la polydor lo vedeva come un possibile artista di successo tony sheridan aveva ingaggiato i beatles allora sconosciuti e senza ringo come baking band delle sue registrazioni non sapendo che quei dischi sarebbero diventati famosissimi dopo il grande successo dei beatles tra le varie canzoni registrate ce n'è una che è il rifacimento di when the sands go marching in stile rock and roll i beatles chiamati beat brothers perché beatles assomigliava molto al modo di dire pene in dialetto hamburghese piddles immagino quanto lannon ci abbia ricamato sopra e quali presentazioni da sogno abbia fatto alla propria band durante la loro permanenza ad hamburgo una volta avuta questa inizione ma tornando a when the sands go marching in chiamata the saints ci sorprendono due cose sapendo che i beatles avevano suonato con lui in quelle sessioni la prima è l'uso dell'urletto in falsetto alla fine della frase qualcosa che diventerà il marchio distintivo dei primi beatles di she loves you e quelli proprio dopo how could i dance with another e di nuovo urletto la seconda è ben riconoscibile anche se non tutti ci hanno mai fatto caso è il fatto che i saw her standing there si muove sugli stessi identici accordi di when the sands go marching in eccoci arrivati proverò per voi questo esperimento perdonatemi in anticipo la melodia di i saw her standing there può essere cantata comodamente sulla base di the saints mancava ancora un ultimo furto per rendere completa la canzone il basso paul dichiara di avere copiato pari pari la linea di basso dal brano di chuck berry dell'anno precedente 1961 i'm talking about you e da qui l'andamento intero della canzone quindi adesso se mettiamo insieme i pezzi abbiamo la struttura armonica di the saints la linea di basso di chuck berry qualche frase ispirata da cilia mortimer e un'altra da lennon altre frasi estrapolate da contesti del rock and roll in voga in quegli anni l'urletto di tony sheridan l'idea della diciassettenne che una volta conquistata non potrà più esserci una vita al di fuori di lei un coacervo di idee che potrebbe rendere questo brano una sorta di mostro di frankenstein diventa invece il motore di accensione dei beatles sì perché è il brano di apertura del primo album please please me e george martin di quella unica sessione tenutasi nel marzo del 1963 tiene fuori anche il conteggio iniziale e fa qualcosa di inusuale non lo taglia e lascia che sia questo conteggio one two three four ad aprire le danze prima di i saw her standing there la prima cosa che si sente dei beatles è il classico conteggio ora divenuto tale classico ma prima sempre è spunto dalle registrazioni e questo conteggio ci porta dentro al rock and roll quell'incipit ci lascia pensare che ciò che viene dopo non sia finzione ma un vero e proprio live nei fatti fu così solo dopo i beatles utilizzarono le nuove tecniche di registrazione please please me è stato interamente suonato live nello studio le piccole imperfezioni l'energia che emerge sin dallo stesso conteggio sono elementi che porteranno nella storia della musica il quartetto trascinando con loro anche tutti coloro che ne hanno fatto parte o ne sono entrati in contatto lo stesso tony sheridan nel 1974 ci fu l'ultima apparizione di john lennon su un palco madison square garden era ospite di elton john presentò john in questo modo una canzone questa disse è di una mia vecchia fidanzata ed intonarono insieme lui elton john i saw her standing there la canzone di paul ma al grado dopo lo scioglimento dei beatles fossero volati più o meno metaforicamente stracci tra i due e non solo quest'idea che lennon riprese proprio una vecchia canzone del suo ex sodale è piuttosto commovente nel 1988 i beatles poi ricevettero il premio di ingresso nella rock and roll hall of fame paul mccarney non si presentò sul palco c'erano ringo george yoko ono julian e sean lennon i due figli di john paul non c'era perché c'erano ancora molti problemi riguardanti i vecchi affari legati alla apple george diplomaticamente ringraziò il defunto john e anche paul in uguale misura ringo disse sbrigativamente suscitando l'ilarità di tutti ok dateci questo premio e ce ne andiamo a casa la stessa sera furono insigniti del riconoscimento anche i beach boys bob dylan e le supremes mick jagger introdusse la apparizione dei beatles e finirono per suonare tutti insieme i saw her standing there l'ospite di oggi di details è benito urgu e per noi davvero un onore avere una vera e propria icona della cultura italiana e anche sarda benito urgu forma insieme ai suoi amici i barritas nel 1962 e vanno avanti fino al 1971 e con i barritas riescono a entrare nell'universo beat e io sono molto curioso di sapere da lui i racconti di quel periodo come vi siete formati e soprattutto la prima domanda benito è hai conosciuto i beatles in che modo come li hai ascoltati la prima volta allora io prima di sentire i beatles cantavo e mesi vivo con dei piccoli gruppi così ma cantavo tutt'altra roba cantavo a iniziare tra canzoni italiane quelle più correnti di quel periodo un po cialentano un po qua un po la poi a un certo punto elvis james brown tutta quella roba lì rock rock and roll niente poi a un certo punto saltano fuori i beatles io avevo ormai 22 anni 23 però nel gruppo c'erano dei giovani e proviamo a fare queste canzoni e avevamo una sezione di voci che andavano benissimo per cantare le canzoni dei beatles quindi bastiamo un repertorio è stata un'esplosione perché dal vivo riuscivamo ad avere un effetto pari ai beatles e su questo senza presunzione sono passati tanti anni per cui io poi io ho anche delle registrazioni il fatto che noi suonassimo nei locali a roma milano torino tre parti d'italia e avevamo questi seguaci che dice almeno non possiamo vedere i beatles dal vivo ma voi li fate divinamente si fate sentire con i beatles a casa ci giriamo di spalle chiudiamo gli occhi e sentiamo i beatles poi si giravano vedevano noi ci restavano male no assolutamente non è vero possiamo dire che ci fosse anche la barritas mania in quegli anni potremmo possiamo dire questo io tutt'oggi che sono su facebook su social ricordano divinamente queste cose qua è bellissimo ricordano tutto perché poi io in quegli anni il mio spettacolo non è che si basasse solo a essere diciamo quello che cantava perché sai a quei tempi era facile essere io sul palco cantare anche cantando male avevi sempre un pubblico che ti guardava però se cantavi bene ce l'avevi appresso sempre era il pianone capisci invece poi pian piano il pubblico sia si è affinato ha iniziato ad apprezzare seguire un po tutto quelle poi le creativi le creazioni inventare delle canzoni dove la gente ci si trovava dentro sarà una barritomania bella perché noi cantevamo anche le canzoni sarde immagini portato al successo questo rock sardo gambale twist questa cosa qua sino a pochi anni fa anche a come si chiama i migliori anni con farlo sconti e frasi che era una era una bomba cioè funzionava infatti noi ascolteremo dopo proprio gambale twist ma è la cosa bellissima secondo me che avete avuto è stata quella di descrivere anche la la terra i luoghi da cui arrivavate anche whisky birra e john nicola è un altro vostro pezzo meraviglioso che quello è un pezzo che era nato nel bar dove ci ci incontravamo tutti quanti ad oristano e praticamente era una specie di roxy bar o di obla di obla da il conte il barone e l'autista sono personaggi realmente esistenti allora erano erano di giovani quando avevo c'era uno che aveva la macchina diventava il capo stipte di quel gruppo e quindi voleva sempre guidare lui perché era padrone della macchina poi c'era il bello del gruppo che era quello che attirava le ragazzine e quindi poi si soprannominavano con questi pseudonomi di conti baroni eccetera ed erano personaggi veri però era attribuito più che altro questo al al discorso di un bar che dove ci si sedeva e ci si incontrava se però tu non avevi soldi per consumare venivi sbattuto fuori non potevi stare lì a sedere quindi consumavano una gazzosa in tre questo era il nocciolo di questa canzone che ha un bel ritornello che quando anche chi non è sardo quando ascolta che la canzone arriva a quel punto e canta ma cameriere ci porti una gazzosa ci porti una gazzosa vogliamo consumare e ogni strofa racconta un po le azioni di uno e dell'altro prendendosi in giro diceva quando dicevano andiamo a pranzo ci vediamo dopo pranzo e mangiavano pane con mortadella se c'è se nel caso ce ne fosse stato se no pane e saliva senza niente pane e diceva pane e saliva pane sputto un'altra cosa meravigliosa che avete fatto poi negli anni for credo nel 1966 e far uscire un disco che non ha precedenti nella storia del mondo cioè la messa beat cioè unire eravamo a roma in quel periodo e ci fu proposto dalla casa discografica ed eravamo tre gruppi c'erano due gruppi romani bumpers e bryans e barrito delle tre b quindi abbiamo dato luogo a questa messa la prima mondiale al sala borromini chiesa sconsacrata e li fono un incontro bellissimo perché vennero tutti i capostipiti della musica di quel periodo poi anche grandi critici da arbore baffiatto buon compagni e tutte le case discografiche poi rotto calchi di tutto il mondo è stata una cosa molto bella e diciamo ha avuto un seguito abbastanza forte i luoghi in cui tu abiti li conosco li ho frequentati abbastanza ma rubio e poi mi io sono sono stato a terra alba conosco benissimo ti chiedo non ti è mai venuto voglia di fare un blues di marcedi che sembrerebbe quasi il mississippi il delta del mississippi beh proprio pensare a un blues di marcedi magari no ma ho cantato delle canzoni dedicate a luoghi della sarvegna tipo una luna particolare di nule un ponte manno che era una una continuità territoriale poi tieni conto che io in questi anni poi ho voluto varcare anche l'oceano andare a cuba ho fatto un disco a cuba intitolato cubando dove ho scritto tutte le canzoni dedicate ad artisti cubani e a città cubane come l'havana morong baiamo le città poi ho dedicato una canzone al compai secondo una a celia cruz non so se conoscesse gli acrosi un'altra polo montagnese un cantante cubano che è morto d'incidente era un cantante notissimo nella zona centroamericana in italia è arrivato pochissimo quasi niente mi sono diciamo allargato un pochino a conoscere la chiave e le radici della musica latina e ho provato l'importanza più grande dove poi hanno attinto anche i più grandi perché la musica cubana ha una radice ha una forza africana se tu entri in una sala da ballo o una discoteca italiana vedi la gente che si muove un po come le lavatrici che rotolano dall'altra ballano con le mani anziché con i piedi in una discoteca cubana e vedi questa sala che si muove tutta omogenea che balla e si muovono ballando coi piedi ecco e muovono il corpo in maniera sentita perché ogni persona cubana uomo donna che sussì quando vanno a scuola la prima cosa che imparano è la clave che la musica e niente ti stringiamo tutti con grande affetto salutaci fenicotteri rosa io volevo parlarti di una canzone che ti ricordi sexy funny sì era sergainsburg e jane birkin la tua versione meravigliosa sì ecco la mia sexy funny aveva messo fine a tutte le canzoni sexy non solo in italia ma nel mondo è stata l'ultima canzone sexy dove io le ho presi per il giro per il giro fantastico esploreremo anche attraverso la radio magari un po un po di due di due canzoni ti 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 mando un enorme saluto grazie davvero di avere partecipato a details ciao grazie caro ciao quando i beatles formati dal solo ringo e harrison ritirarono il premio per essere entrati nella rock and roll hall of fame ci fu anche un momento in cui george volle ringraziare i vecchi pionieri del rock and roll senza i quali i beatles non sarebbero stati lì in quel momento e fece il nome di little richard questi fu uno tra gli innumerevoli artisti che fecero propria una versione di i saw her standing there segno che il meraviglioso patchwork di mccarney era andato a segno ci fu un frequente scambio tra i beatles e la vecchia guardia del rock che li ispirò e li fece diventare quello che divennero sono molti gli artisti della caratura di little richard che in seguito reinterpretarono le canzoni dei beatles ormai diventate grandi successi alla stregua di quelli che avevano sfornato loro stessi un saluto da details scritto e condotto da gg di giancursi and you know what i mean